Ehi ragazzi, sono io il Martinator. Sono di nuovo in diretta. È fantastico che tu sia qui. Cosa devo fare? Farò davvero di tutto per i click. Guarda quella Miriam. Il padre di Lisa è di nuovo in diretta. Questa volta su YouTube. Cosa sta facendo lì? Non lo so, ma sono sicuro che sarà divertente. Stai bene, Lisa? Sì, finalmente tutto è tornato alla normalità. Non sono più dell'umore giusto per le avventure. Mattias, hai una sfida per me? Dimmi solo cosa devo fare. Cos'è la One Chip Challenge? Vuole partecipare alla One Chip Challenge? Cosa vuole fare? La sfida One Chip. Cosa è quella? Devi mangiare la patatina più piccante del mondo. Non è pericoloso. Sì, qualcuno è morto per questo la settimana scorsa. Vuoi davvero che mangi questa cosa qui? Non sembra affatto così male. Oh, cosa dovrebbe succedere? Cosa è successo allora? Ecco, guardatelo voi stessi. Oh mia via! Fa davvero caldo qui. Qualcuno ha acceso il riscaldamento? Ho davvero bisogno di acqua. Oh cavolo, non mi sento affatto bene. Accidenti, è pericoloso. Sì, ma di solito non succede niente. Il padre di Lisa vuole davvero mangiare le patatine? Si credo di sì. Se mangio le patatine, allora ti iscriverai al mio canale? Non è possibile che mi iscriva al tuo canale. Idiota. Ok, mi hai convinto. Ora vado al distributore di benzina a comprare il chip. Spero che il video mi renda famoso. È sempre stato il mio sogno. Finalmente è arrivato il momento. Salve, prenderò un chip per la One Chip Challenge, per favore. Ne sei sicuro? Sì, perché? Beh, queste cose sono davvero piccanti. Pensi che io sia un idiota o qualcosa del genere? No, non intendevo dire questo. Ne prendo due. Oggi stai finalmente pagando per tutto Hugo. Ogni fine è anche un inizio. Che tipo di detto è questo? Ne ho anche uno in magazzino. Tutto ha una fine. Solo la salsiccia ne ha due. Ci rivediamo presto, Bob. Te lo prometto. Lo spero. Mi deve ancora una ciambella. Sì, ho tutto. Finalmente sono pronto per partire. Oh no, abbiamo perso 100 spettatori. Oh, i chip guys. Dovrei davvero mangiarlo? Oh, Santa Mucca. Vuole davvero mangiare le patatine. Ne sei sicuro? Fammi vedere. Fammi vedere. Ehi Miriam, ok? Lisa, tuo padre è completamente pazzo. Sì, dimmi qualcosa di nuovo. No, dico sul serio. Vuole partecipare alla One Chip Challenge. Cosa vuole fare? Su ragazzi. Con mille like mangerò le patatine. Promesso. Ne ho anche un secondo con me. Samuel, dobbiamo impedire a papà di farlo. Dobbiamo andare subito a casa. Ehi Miriam, tuo marito è di nuovo in diretta. Davvero? Cosa sta facendo adesso? Vuole partecipare alla One Chip Challenge. Mangi le patatine più piccanti del mondo. E filma la tua reazione. È pericoloso. Sì, alcune persone non sono sopravvissute. Devo andare subito a casa. Dobbiamo sbrigarci. Papà potrebbe mangiare le patatine da un momento all'altro. Siamo già a 800 like. Forza ragazzi, continuate così. Perché ha sempre idee del genere? Probabilmente sta trascorrendo troppo tempo su TikTok. Su, sbrigati. Speriamo che Martin non mangi davvero le patatine. Devo tornare a casa velocemente. Ha già 900 like. È giunta l'ora. Hai già dato un like? No, e tu? Nemmeno mia. Ora sono 902 mi piace. Sì, i like stanno aumentando sempre di più. Sono già 950 like. Preparati, Chip. Stai per essere mangiato. La nostra casa è laggiù. Spero che arriveremo in tempo. Spero che non sia ancora troppo tardi. Dobbiamo entrare. Papà è in cucina. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Abbiamo 1000 like. Resisti, Martin. Sarò subito da te. Ci siamo, ragazzi. Ecco la One Chip Challenge. Papà, cosa stai facendo lì? Lisa, Samuel, cosa state facendo qui? Non hai davvero mangiato le patatine, vero? Sì, sto partecipando alla One Chip Challenge in questo momento. Oh no, è troppo tardi. È ora, Hugo. Esci dalla tua cella. Bob, andiamo. Non ho tutto il giorno. Cosa è successo? Ancora niente. È davvero noioso. Aspetta, forse succederà altro. Come ti senti? Normal finora, perché? Mi brucia un po' la lingua. Ma non è poi così male. Penso che sia ora di iniziare. Sì, sembra proprio così. Qualcuno di voi ha acceso il riscaldamento? Ci sono 100 gradi qui dentro. Oh no, papà. Ha già mangiato le patatine fritte. Sì, l'ha fatto. Perché lo stai facendo, Martin? Volevo più like sul mio video di YouTube. Oh cavolo, mi gira davvero la testa. Non vedrò più i soldi per la mia ciambella. Giusto, Hugo? No, ma stare a dieta ti farà bene, Bob. Fatelo, dottore. Ne sei sicuro? Sì, il giudice ha già deciso. Ok, va bene. A presto, Bob. Spero di no. Oddio, papà. Non mi sento affatto bene. Cosa dobbiamo fare, mamma? Dobbiamo portarlo subito in ospedale. Ok, è finita. Grazie, dottore. Cosa ha fatto realmente? Vuoi dire, Hugo? Sì, è vero. Era una delle persone più malvagie di tutti i tempi. Nessuno era al sicuro da lui. Beh, almeno aveva una tessera per la donazione di organi. Cosa significa? I suoi organi saranno donati ad altre persone. Resisti, tesoro. Arriveremo subito. Non ci vorrà molto più. Non puoi andare più veloce? Come desideri. Il tipo ha davvero mangiato le patatine. È stato fantastico. Non mi sono iscritto al suo canale. Nemmeno io. Cosa gli è successo? Il tipo è arancione. Mio marito ha partecipato alla One Chip Challenge. O no, non un altro. Cosa dobbiamo fare? Torna subito lì per le emergenze. Il medico cercherà di aiutarti. Ok, grazie mille. Devo portare gli organi in ospedale. Hugo non è più qui. Ma forse qualcun altro può continuare a vivere. Dottore, abbiamo davvero bisogno del suo aiuto. Mio marito non sta bene. Cosa è successo? Ha partecipato alla One Chip Challenge. Non un altro. Perché l'ha fatto? Voleva più like sul suo video su YouTube. Posso capirlo. Aiutatelo per favore. Portatelo nella stanza. Posso esaminarlo lì? Oh cavolo, ci vuole un'eternità. Quale idiota sta bloccando la strada laggiù? Oh no, non sembra buono. Il suo cuore è molto debole. Dobbiamo fare qualcosa. Dopotutto, il video di papà ha molti mi piace. Il suo desiderio si è avverato. Signora Peters, ha un minuto? Sì, dottore, certo. Che aspetto ha? Non va bene. Il problema è il suo cuore. È molto debole. Cosa possiamo fare? Solo un cuore donatore può salvarlo ora. Gli organi sono ancora freschi. Speriamo che qualcuno possa usarli. Almeno Hugo ha fatto qualcosa di buono allora. Ciao Hugo. Ti stavo aspettando. Ottieni un posto VIP con noi. Non starò qui a lungo. Penso che tu abbia frainteso qualcosa. Starai qui per sempre adesso. Lo vedremo. Dove possiamo trovare il cuore di un donatore? Questo è il problema. Devi aspettare settimane per farlo. Cosa stai cercando di dirmi? Mio marito sta per morire? Sì, probabilmente morirà. Organi donatori caldi e croccanti. C'è un cuore dentro? Uh, sì perché? Qualcuno ha rotto il tuo? Smettila di scherzare. Non è divertente. Abbiamo bisogno del cuore subito. Davvero? Sì, ce n'è uno al piano di sopra. Ha partecipato alla One Chip Challenge. Oh mio Dio. Vado subito a portare il cuore al piano di sopra. Sì, c'è uno al piano di sopra. Mi dispiace davvero. Ma non possiamo fare altro per lui. Salve. Hai ordinato un cuore da donatore? Da dove hai preso il cuore? L'ho preso dal carcere. È ancora freschissimo. Dobbiamo intervenire immediatamente su Martin. Bisturi per favore. Ecco dottore, eccoti. Thorsten ho bisogno del cuore adesso. Ok, arrivo. Ti è caduto il cuore. Ehi amico, come puoi essere così rilassato? Siamo all'inferno. Siamo all'inferno. Molto facile. Il destino sta facendo il suo corso. Non starò qui ancora per molto. Non hai letto il manuale utente? Non puoi più uscire da qui. Scusi dottore. È stato un incidente. Cosa facciamo ora, dottore? Useremo comunque il cuore. È la sua migliore occasione. Spero che il dottore possa salvare papà. Se c'è qualcuno che può salvare Martin, è il dottore. È davvero professionale. Ok, il cuore è dentro. Tutto ciò che dobbiamo fare ora è batterlo. Ok, ho capito. Che diavolo stai facendo lì? Hai detto che avrei dovuto battere il cuore. Dovresti far battere il cuore. Non battere il cuore. Oggi è il tuo primo giorno o cosa? No, il mio secondo. Sorella, dammi il defibrillatore. Cosa sta succedendo qui? Da quando puoi volare? È arrivato il mio momento. Perché non funziona? Ha funzionato? No, dobbiamo rifarlo. Su tre sorelle. Uno. Due. Tre. Quella cosa sta ancora emettendo un segnale acustico. Perché non funziona? Perché quell'idiota laggiù si è spezzato il cuore. Cosa devo dire? Sono un rubacuori. Quindi rimani qui? No, non può essere. Non è il mio destino. Stai ancora mangiando quella buccia di banana? O posso averlo? È il nostro ultimo tentativo. Se ancora non si sveglia. Poi l'abbiamo perso. Fatelo, sorella. Non possiamo fare altro per lui. Devo parlare con la sua famiglia. Che aspetto ha, dottore? Martin si sente di nuovo meglio? Mi dispiace, signora Peters. Ma non siamo riusciti a salvare Martin. Ma ha un cuore nuovo. Sì, ma ci sono state alcune complicazioni al cuore. Oh no, è successo davvero. Martin è morto. Salutiamo Martin oggi. Era un amato papà, marito e tiktoker. Chi vuole dire qualcosa? Mi mancherò, cara. Ma ci rivedremo un giorno. Te lo prometto. Perché sembri così premuroso? Perché sto pensando. Stai pensando la stessa cosa che penso io? Dipende. A cosa stai pensando? A proposito di un doppio cheeseburger. Allora non stiamo pensando alla stessa cosa. Sei stato il miglior papà del mondo. Non riesco a pensare a nessuno migliore. Ma non capisco perché tu abbia mangiato le patatine. Cosa ne pensi allora? Su come tornerò sulla Terra? Non ci posso credere, papà. Sembra tutto un incubo. Spero solo che ti svegli. E tutto sarà come prima. Possiamo andare un po' più veloce, per favore? Sta arrivando un temporale. E l'accappatoio non è impermeabile. Ehi, ho pagato il pacchetto completo. Lo sapevo. Finalmente è arrivato il momento. Dove mi trovo? Martin, sei vivo. Papà, sei tornato. Mi sei mancato così tanto. Non ho mai visto niente del genere. Torniamo a casa. Ho molto da fare. Dai un pollice in alto per la parte successiva e clicca su questo video.